bella ragazzi siamo qua tornati in un nuovo video oggi siamo qua tornati con la reaction oggi si gioca a Napoli e Lecce oggi non una giornata di Serie A da Napoli e Lecce oggi partita delle 15 di sabato perché oggi partita importante contro Lecce che ha perso sia 0 con la Celentina verrà sicuramente a Napoli con tumore diverso però sicuramente oggi sarà una grande partita ragazzi perché dobbiamo vincere siamo primi dobbiamo rimanere in vetta e dico sembra la stessa come è così ragazzi non vincere questo scudetto quest'anno poi le prossime partite saranno una piuttosto dell'altra perciò oggi vinciamo con Lecce e poi dobbiamo fare tre testi importanti oggi giocherà Gonche, Lukaku e Neres ragazzi bell'attacco secondo me marcatore di Dito Neres non so per chi sempre con Neres ragazzi con l'assist sicuro sicuro segnatelo andiamo sul trappino e niente ragazzi adesso ci vediamo al primo tempo di Napoli Lecce e Forza Napoli adesso ci vediamo al primo tempo di Napoli Lecce ragazzi se lo so per quello tempo di Napoli Lecce partiamo nuova da Forza Napoli vai ragazzi e tira e tira e tira che pignone che parata si il capitano di lorenzo che suono ragazzi non ho benissimo non sbaglio nella bimbra non c'è un operato secondo tira ragazzi segnale come è possibile c'è qualcuno tempo 0 a 0 partita chiusa in difesa in difesa c'è molta difficoltà lecce poi attacca con questa banda incontropiede lecce è buon ragazzo vedendo ma c'è una bella parte incontropiede lecce non è male come gioco in lecce gol di tarenza perché non sta giocando mal in avanti ragazzi un po' lupaku mi vedo un po' spento un po' lento lupavola davanti secondo me se legamo lupaku mettiamo un versino e uno ragazzi secondo me è meglio eh me l'avete così la partita mi fa che cambierà non è solo tempo possiamo sbloccare non è solo tempo speriamo di sbloccare la partita vediamo un po' se vinciamo ragazzi sono tre punti di portanza con il lecce dobbiamo fare tre gare importanti dopo con il lecce speriamo di vincere ragazzi c'è un assoluto tempo grazie c'è un assoluto tempo di capo il lecce fatti il lecce vai giù potremmo trovare il gol questa partita vai siamo con tre punti forza metti là mi si ghiaccia e pigliare c'è entrata entrata di Lorenzo sempre lui questa volta è entrata non mi interessa non mi interessa questo è gol questo è gol questo è gol questo deve essere gol e basta sempre il capitano fa anche la cera del bar lo fa anche lui a realizzare la sua seconda rete il campionato penso che l'aveva in dada mi è andata tu con la tira sempre il capitano vai magari vedi il gol e basta adesso gol e basta non mi sapere nulla non andiamo a sapere più niente visto ma di merda vai basta vai vai ma segnali si dai il capitano è solo un capitano il capitano che è solo un capitano un capitano un capitano un capitano ma girà oh non hai chiusura dai pensavo a rischiare l'ultima con sfavore no no non ti hanno ansia dici che è finita dai fischia finita vai tre punti voto 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 tre punti passa fa ammanita un altro 1 a 0 poi mi faccio più non mi fate soffrire basta questa partita grazie c'è quella partita 1 a 0 finalmente un'altra partita vinta per una 0 ragazzi non mi fate soffrire più in queste partite basta diciamo 2 a 0 alla prossima partita fino alla fine mi sembra ora siamo morti all'aspedale comunque la partita finisce qua un altro contro invece invece non ha cagato male attaccato fino all'ultimo minuto chiamerse la terapia rendere un'altra l'ansimus tutto l'antica comunque dove c'è la prossima video lasciate a me mi piace adesso c'è la martedì con milanapoli big match che parte finalmente big match di Napoli che stavo con il test da scudetto lo vediamo anche parte di ragazzi in Napoli voglio di Napoli martedì impegnato veramente voglio dire che gioia al massimo e niente noi c'è la martedì la reaction mercoledì quando esce il video non lo so comunque martedì c'è mia a Napoli poi vediamo la decima da mercoledì martedì sguardo niente ragazzi noi ci amiamo al prossimo video facciamo un bel ricaccio iscrivetevi al canale e sempre comunque forzate comunque domani domani vi direi bacio ciao